E' il mio mi piace Brava Applausi Brava Allora, la scudo, la su, lo modifichiamo facciamo a e facciamo dracula facciamo a e facciamo un po' il movimento ci mettiamo un bel movimento nel corpo oppure si puoi abbandonare puoi anche fare questo movimento vediamo un po' cosa succede alla voce grazie grazie